Un racconto realizzato da Neuronic Channel con il supporto di ChatGPT Il castello fantastico In una pittoresca vallata dell'Emilia-Romagna sorgeva un antico castello, noto come Castello di Ventimiglia. La struttura, sebbene in rovina, aveva mantenuto il suo fascino maestoso e la sua aura di mistero. Mario, un bambino di dieci anni con occhi scuri e capelli castani, era affascinato dal castello. Viveva nel villaggio vicino e spesso si arrampicava sulle colline circostanti solo per guardarlo. La sua amica Giada, con lunghi capelli biondi e occhi azzurri, condivideva la sua passione per l'avventura. Entrambi avevano sentito le leggende locali che narravano di tesori nascosti, di fantasmi e di incantesimi legati al castello. Una mattina d'estate, mentre i due bambini erano nei pressi del castello, un piccolo topolino grigio corse verso di loro, fermandosi ai loro piedi. Aveva qualcosa legato al collo, un piccolo rotolo di pergamena. Mario, sorpreso, lo prese e lo srotolò. C'era un messaggio scritto in un'antica calligrafia. Aiuta Gigi a trovare la chiave perduta e salva il castello. Giada guardò Mario con gli occhi spalancati. Questo deve essere Gigi, esclamò, indicando il topolino. Gigi annui energicamente, come se capisse. Decisi a intraprendere l'avventura, i bambini seguirono Gigi mentre li guidava all'interno del castello. Viaggiarono attraverso corridoi polverosi, sale da ballo abbandonate e turri nascoste. Lungo la strada, incontrarono enigmi e rompicapi che dovevano risolvere. Ogni indizio li avvicinava alla chiave perduta. Durante il loro viaggio, scoprirono che Gigi non era un topolino comune. Era l'ultimo protettore del castello, trasformato in un topolino da un antico incantesimo. La chiave perduta avrebbe potuto rompere l'incantesimo e salvare il castello dall'oblio. Mentre si avventuravano nelle profondità del castello, i bambini impararono a fidarsi l'uno dell'altro e a lavorare insieme. Gigi, con la sua intelligenza e il suo acume, li aiutò a superare numerose sfide. Finalmente, in una stanza nascosta, trovarono una grande porta di ferro. Al centro, c'era un buco della serratura a forma di stella. Mario si avvicinò e inserì la chiave, che avevano trovato risolvendo l'ultimo enigma. La porta si aprì, rivelando una magnifica sala del trono, illuminata da migliaia di luci scintillanti. Al centro della sala, c'era una grande pietra scintillante. Mario e Giada, guidati da un impulso, posarono le mani sulla pietra. Una luce brillante li avvolse, e quando si dissolse, si ritrovarono di nuovo fuori dal castello, con un rinnovato castello di ventimiglia che sorgeva maestoso davanti a loro. Gigi, ora trasformato in un giovane principe con abiti regali, si avvicinò a loro. Grazie, disse. Hai rotto l'incantesimo e hai salvato il mio regno. In segno di gratitudine, vi concedo il dono dell'avventura. Ovunque andiate, troverete sempre nuove avventure ad aspettarvi. I bambini, sorpresi e felici, ringraziarono Gigi e si avviarono verso casa, sapendo che le loro vite non sarebbero mai più state le stesse. Il villaggio festeggiò il ritorno del castello di Ventimiglia, e Mario e Giada divennero eroi locali. Ma, più di tutto, avevano scoperto il valore dell'amicizia, della collaborazione e della perseveranza. Gigi, ora libero dal suo incantesimo, governò il suo regno con saggezza e giustizia, sempre grato ai due bambini che avevano salvato il suo regno. E mentre il sole tramontava sul pittoresco villaggio italiano, Mario, Giada e Gigi sapevano che, non importa quanto grandi o piccole fossero le sfide, avrebbero sempre trovato il modo di superarle insieme. E così, in una terra di magia e mistero, il legame di amicizia tra un ragazzo, una ragazza e un principe topolino divenne una leggenda, raccontata di generazione in generazione. Una storia di coraggio, avventura e amore incondizionato.